Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 31 agosto e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e Fuzzimib e facciamo un bel recap anche a livello settimanale. Innanzitutto facciamo qualche considerazione importante. Allora, come detto, il nostro punto di attenzione è questo. Ok? Ne abbiamo già parlato nella scorsa analisi, quindi non sto a tornarci indietro. Abbiamo che il nuovo mensile è arrivato a 21 giorni e a 3T. Il terzo T può aver dato vita anche al secondo T più 1 e in questo momento sta arrivando o è arrivato a metà della sua durata, ok? Perché può arrivare anche a 11T-3 oppure potrebbe essere in discesa per la chiusura stessa a 6 o a più T-3 del T stesso. Ha ripiegato abbastanza, da massimo a minimo e facciamo anche un'altra considerazione. Per quanto riguarda l'inverso abbiamo fatto 1 e 2 3 con un raccordo, a mio avviso e siamo arrivati al quarto quarto T-inverso, il secondo di questo secondo T più 1 che sta spingendo per far scendere appunto i nostri corsi. Abbiamo divergenze particolari? In questo momento nel breve direi di no anche se nella realtà dei fatti una piccola rialzista ce l'abbiamo qui. Per quanto riguarda il discorso daily anzi a 15 minuti dal daily abbiamo che sta provando a partire il 6T-3 e infatti i futures sono positivi comunque per quanto riguarda il nostro DAX ovvero sono a più 54 punti però dopo la partenza che vedremo se verrà confermata attorno ai 13.084 ricordiamoci che qui abbiamo la media mobile a 50 periodi e che sta provando ad andare in death cross per cui se non riusciremo a superare stabilmente sia la media mobile a 50 periodi che il livello superiore della Kuma faremo in poca strada, porca miseria anche perché, ripeto, un T settimanale può tranquillamente andare a chiudere al sesto T-3 serenamente e soprattutto su DAX oltretutto per quanto riguarda l'inverso abbiamo che abbiamo 1, 2, il terzo T-3 inverso deve andare in chiusura e per ora siamo arrivati solido esclusivamente a 14 barre quindi a 14 barre che cosa può succedere? se verrà confermata l'apertura andiamo a chiudere il primo T-U4 inverso poi ci sarà di nuovo spinta verso il basso per far partire il secondo T-4 inverso e il terzo T-3 inverso quindi attenzione perché potremmo ritornare verso i minimi e poi eventualmente andare anche sotto attenzione come al solito agli swing sarò più preciso poi ovviamente per il gruppo che mi dedica più tempo dando tutti i livelli dell'algoritmo che si stanno rivelando come al solito decisamente interessanti per quanto riguarda invece il nostro Fuzzimib stessa considerazione fatta qui abbiamo 96 barre per chi si intende di ciclica e non soltanto di ciclica voluta significa tanto e significa fate attenzione però il Fuzzimib è decisamente più debole rispetto al DAX uno perché non ci sono stati aggiornamenti dei massimi due perché siamo finiti all'interno dell'acumo e quindi rischiamo di essere attratti dal livello inferiore stesso dell'acumo e anche in questo caso non abbiamo tutta la spinta che invece ha avuto il DAX abbiamo molta meno forza relativa abbiamo appunto un canale qui decisamente discendente mentre qui no assolutamente no e anzi per quanto riguarda anche in questo caso l'inverso siamo al secondo T più 1 di questo ciclo più grosso che ci sta spingendo appunto sta provando a spingerci verso il basso e in chiusura di T più 4 in chiusura di simestrale di indice lo vedremo perché qui le condizioni su questo minimo ce le abbiamo già e successivamente appunto dovremo vedere come andrà a chiudere anche il T più 2 ma nella realtà dei fatti prima di tutto bisognerà vedere se sarà un 3 tempi o meno anche perché siamo a 20 giorni ne basterebbero 4 che sommati a questi 5 fanno un terzo T a 9 giorni ok non aggiungo altro guardiamo per la giornata per la giornata anche se i future sono positivi per la partenza ovviamente del sesto T meno 3 che è già comunque arrivato a 4 candele su minimo 5 per avere una partenza abbiamo che con 85 punti verremo proiettati verso i 19.935 orientativamente qua ok un pochino sopra la media mobile che però come vedete già in that cross quindi attenzione o i prezzi dell'indice verranno proiettati sopra il livello della media mobile a 200 periodi rapidamente oppure iniziate a valutare delle operazioni short anche perché qui il ritracciamento è stato molto più forte da minimo a massimo guardate dove siamo andati e quindi già al sesto T meno 3 facciamo attenzione a che non vada a chiudere poi il terzo T come detto appunto sul grafico candele giornaliere dobbiamo sempre ragionare in termini di swing e sempre in termini di volumi però mi raccomando ecco possono essere queste occasioni di short eventualmente con la seconda tecnica che ho illustrato a chi mi dà più tempo e sempre aspettando la seconda candela il colore della seconda candela quindi anche in questo caso valutate se volete fare formazione con me perché oltre la parte squisitamente teorica la ciclica voluta ha anche una parte prettamente operativa per cui diventa abbastanza difficile sbagliare determinate operazioni d'accordo direi che questo è tutto per la giornata di oggi quindi fate attenzione a un'eventuale chiusura di settimanale con discesa se non riusciremo a superare stabilmente queste due medie mobili vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida giornata